Gran premio delle regionali di primavera. Sul circuito del Veneto in pole position c'è il governatore più amato d'Italia, Luca Zaia. Il Partito Democratico prova a posizionarsi in seconda posizione e scalda i motori. Sarebbe bello partire almeno secondi per provare a giocarsi la vittoria finale del Gran Premio con Zaia. Devo dire che il rischio che vedo sempre più forte è invece di partire a metà della graduatoria o in fondo della graduatoria, perché se non ci diamo una sveglia, se non ci muoviamo, se non individuiamo presto un candidato e un progetto per questa regione penso che ancora una volta ci faremo trovare impreparati e a quel punto anche competere diventa difficile. Per cui l'appello che lancia il mio partito e tutto il centrosinistra è diamoci una mossa, diamoci una sveglia. Il Vicentino Giacomo Possamai suona la sveglia e lancia un appello. Il Partito Democratico deve darsi una mossa, ma nel Gran Premio delle Regionali 2020 un pilota politico come Luca Zaia non è facile da superare sui rettilinei né tanto meno in curva. È vero e proprio per questo servirebbe da oggi, da subito, partire con un percorso che individui il candidato prima possibile, assolutamente che individui il progetto politico, nel senso che comunque vada per Zaia, questa è l'ultima corsa, perché non potrà più ricandidarsi dopo queste elezioni e io sono anche convinto che Zaia non finirà questo mandato perché essendo l'ultimo se potrà andare a Roma andrà a Roma, se potrà andare in Europa andrà in Europa. Per cui a maggior ragione serve prepararsi perché magari a queste elezioni le seguiranno presto, prima del previsto delle altre, ma se ancora una volta sprechiamo l'opportunità, ancora una volta sarà impossibile per il centrosinistra vincere in Veneto. Previsioni o forse provocazioni? Giacomo Possamai, dopo quella della primavera 2020, ipotizza una nuova tornata elettorale anticipata, ma oggi come oggi è il PD che rincorre in Veneto e non solo dovrà trovare un pilota che si candidi, ma dovrà mettere a punto anche una macchina capace di dar filo da torcere a quel bolide politico che è la Lega. La macchina, cioè il PD con chi si allea, con chi costruisce la coalizione per provare a vincere in Veneto. Io ho lanciato una proposta e la rilancio. Secondo me il PD deve costruire un progetto tutto Veneto, un po' come si era fatto 15 anni fa con Cacciari, con Insieme per il Veneto, cioè aprire la sua lista, le liste civiche, ad altre formazioni politiche. Fare un progetto tutto Veneto anche rinunciando al proprio nome e al proprio simbolo. Un patto per il Veneto. Immaginiamo un bel leone, visto che pensiamo che il progetto sia Veneto e legato al Veneto, io penso questo, cioè che l'animale giusto in questo caso sia il leone. Grazie a tutti.